Il corso Employee Advocacy, coinvolgere le persone e trasformarle in ambassador digitali dell'azienda, sfrutta il potenziale inespresso dei dipendenti, il cui network personale è dieci volte più ampio degli account aziendali. Grazie a relazioni più autentiche e coinvolgenti, il corso insegna come attivare questa risorsa dormiente. Attraverso i concetti chiave e i due principali approcci all'advocacy, i partecipanti impareranno a trasformare i dipendenti in ambassador motivati, migliorando la visibilità e la reputazione dell'azienda. Un percorso concreto per integrare l'advocacy nel processo organizzativo. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.